Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale di Tarell Academy. Con questo video diamo il via ad una mini serie che abbiamo preparato per mostrarvi le enormi potenzialità della Jforex e della Visual Jforex, due delle piattaforme che noi utilizziamo quotidianamente per fare trading e spiegarvi perché, secondo noi, rappresentano un'ottima soluzione per il trader retail che utilizza un approccio di tipo sistematico. Se sei nuovo del trading e non sai quale piattaforma scegliere o se sei già esperto ma operi solo manualmente e vuoi cominciare a fare trading quantitativo o desideri passare ad una piattaforma più professionale di quella che stai utilizzando, questo video fa per te. Per cui rimani e ci vediamo dopo la sigla. Bene ragazzi, in questo video, come ho anticipato, parliamo di Jforex e Visual Jforex. Per esporvi le potenzialità e le qualità di queste piattaforme, voglio analizzare con voi gli aspetti che anni fa ho preso in considerazione e mi hanno portato alla decisione di abbandonare la MetaTrader 4, la piattaforma più diffusa al mondo, almeno per quanto riguarda l'ambito retail, e con la quale programmavo in MQL4 i miei trading system, per passare alla Jforex e alla piattaforma di sviluppo Visual Jforex. Essendo un trader sistematico e che quindi opera sui mercati attraverso l'uso di trading system automatici, gli aspetti che al tempo avevo preso in considerazione erano molto legati alla possibilità e ai vantaggi che queste piattaforme potevano offrirmi, ovvero la capacità di svolgere backtest affidabili con un'alta qualità del data feed, le potenzialità nello sviluppo di trading system, i costi generali dell'infrastruttura, quindi piattaforma, data feed e WPS, la reportistica disponibile per analizzare l'operatività, gli strumenti finanziari disponibili ed infine i broker che mettono a disposizione la Jforex. Cominciamo quindi dalla prima caratteristica, ovvero la possibilità di svolgere backtest affidabili e reperire dati storici di qualità. Beh, su questo aspetto la Jforex è una piattaforma ottima, in quanto permette di svolgere backtest e ottimizzazioni delle strategie con risoluzione variabile che va dal giorno, per backtest veloci ma meno precisi, fino alla risoluzione massima tick by tick con spread BDASK reale, inoltre dà la possibilità di svolgere i test impostando le commissioni e i costi overnight reali, per cui sull'affidabilità dei backtest non c'è davvero nulla da dire, è ottima. Sempre in merito ai backtest, si sa che il risultato della simulazione è strettamente legato alla qualità dei dati storici utilizzati per svolgerli. Anche su questo aspetto la Jforex è fantastica, infatti mette a disposizione anni di dati storici, dei prezzi reali di contrattazione con risoluzione tick by tick, sia per il BID che per l'ASK, e i dati sono già disponibili in piattaforma, per cui non è necessario scaricarli da siti esterni o rielaborarli, ad esempio per allinearli al fuso orario che stiamo utilizzando, è tutto pronto all'uso. Per finire, svolgere un backtest o un'ottimizzazione con la Jforex è estremamente semplice, e permette di personalizzare il setup del test in base alle proprie esigenze. Diciamo quindi che sul primo aspetto preso in analisi non c'è nulla da dire, è difficile trovare di meglio. Passiamo quindi al secondo criterio di valutazione, ovvero le potenzialità nello sviluppo di trading system. Operando solo in modo sistematico, la possibilità di poter attivare trading system in piattaforma per me era fondamentale, e su questo la Jforex non mi ha dato alcun problema, in quanto consente l'attivazione di programmi automatici. Il secondo aspetto da considerare era quindi il linguaggio di programmazione e le sue potenzialità. Sapendo programmare in MQL4 e anche in altri codici, diciamo che imparare un nuovo linguaggio di programmazione per me non era un grosso problema. Tuttavia, tanto più il linguaggio è semplice, intuitivo e meglio è. Beh, su questo aspetto la Jforex, quando l'ho presa in considerazione la prima volta, mi ha davvero stupito. Difatti, sebbene i trading system debbano essere programmati in Java, linguaggio sicuramente non per neofiti, è possibile sviluppare le strategie tramite una piattaforma grafica chiamata Visual Jforex, nella quale i trading system vengono composti unendo dei blocchi operativi che poi creano l'operatività della strategia, dopodiché il programma viene automaticamente convertito in Java. A mio avviso è un sistema geniale, in quanto programmare una strategia con la Visual Jforex equivale a tracciare il diagramma di flusso che rappresenta la sequenza logica delle operazioni. Inoltre, dato una strategia già programmata, seguendo i singoli blocchi è possibile capirne molto facilmente le logiche operative con cui opera il mercato. Vi assicuro che è davvero uno strumento fantastico, semplice da utilizzare e che permette di implementare praticamente qualsiasi strategia di trading senza scrivere una singola riga di codice. Parliamo del terzo criterio di valutazione, legato ai costi generali dell'infrastruttura, quindi i costi della piattaforma, del data feed, della VPS e quant'altro. Chiaramente non considero le commissioni, in quanto non dipendono dalla piattaforma, ma dal broker. Su questo aspetto non voglio dilungarmi troppo, perché non ci sono costi. La piattaforma è gratuita, così come il data feed. Inoltre, il broker mette a disposizione, gratuitamente, sui propri server, degli slot per poter attivare le strategie in remoto. Per cui, anche i costi legati alla VPS, se non ci si vuole appoggiare a provider esterni, sono pari a zero. In ogni caso, se volete approfondire dettagli legati alla VPS, vi lascio qui in alto a destra e in descrizione il link ad un video in cui vi spieghiamo cos'è una VPS e come attivare quella gratuita di Amazon AWS. Il quarto punto preso in considerazione è molto tecnico ed è relativo alla reportistica disponibile per analizzare l'operatività, sia in reale che in backtest di una strategia. Per quanto riguarda la reportistica relativa all'operatività di trading, la Jforex mette a disposizione un portale online molto dettagliato e ricco di informazioni. Si trovano moltissimi dati, come le informazioni relative ai singoli trade, che ai fondi ricevuti o prelevati, oppure i rendiconti giornalieri con il guadagno o la perdita ottenuta. Ad un primo sguardo può sembrare complicato e poco intuitivo, un po' come tutti gli strumenti pensati più per un pubblico professionale che amatoriale. Ma, dopo averci preso un po' la mano, il portale online della Jforex è davvero completo e ricco di informazioni e permette di mantenere sotto controllo la situazione finanziaria del conto. In merito ai backtest e alla relativa reportistica, per ogni test eseguito la Jforex genera un report che riporta tutte le informazioni necessarie per comprenderne l'operatività. Posso dire che il report è molto dettagliato, ma tutte le informazioni riportate però devono essere rielavorate per poter essere leggibili e interpretate. Per farvi un esempio, nel report non viene riportata la curva dell'equity, non ci sono indicazioni in merito al drawdown o vari indicatori statistici. Insomma, ci sono delle informazioni grezze che, senza una rielaborazione, non permettono di avere un'idea chiara delle performance della strategia e quindi risultano solo fini a se stesse. Nonostante questo, non c'è da preoccuparsi, in quanto i report generati dalla Jforex vengono tranquillamente letti e interpretati dalla Quantanalyzer, un software gratuito nella sua versione base che automaticamente legge i dati e li rielabora fornendoci tutte le informazioni necessarie per interpretare la bontà di una strategia. Per cui, anche su questo aspetto, la Jforex si è dimostrato uno strumento adatto alle mie esigenze. Passiamo a considerare gli strumenti finanziari disponibili sulla Jforex. Anni fa, quando ho preso in considerazione la Jforex, cercavo una piattaforma che mi permettesse di operare su strumenti molto scalabili, in quanto, non avendo un conto particolarmente capitalizzato e puntando a un alto livello di diversificazione dato dall'uso di molte strategie, avevo la necessità di dover allocare poco margine a ogni singola operazione. Data questa premessa, era chiaro che gli strumenti regolamentati come Future, ETF o titoli azionari erano esclusi, non ci avrei potuto operare, e la scelta dovrà per forza cadere su cambi valutari e CFD a leva. Da questo punto di vista, la Jforex era perfettamente adeguata alle mie necessità, in quanto permette di operare su un gran numero di cross valutari, oltre a CFD su indici azionari, commodities, ETF, stocks, criptovalute e obbligazioni. Per cui, vista l'ampia scelta di strumenti disponibili, la piattaforma era più che adeguata ai miei scopi. L'ultimo elemento valutativo che avevo preso in considerazione quando poi ho scelto di utilizzare la Jforex, era la qualità e serietà dei broker che la adottavano. Questo aspetto è chiaramente di primaria importanza, ma l'ho messo come ultimo in quanto, dal mio punto di vista, ci sono degli elementi valutativi sui quali non è possibile scendere a compromessi, ma che ormai moltissimi broker rispettano senza problemi. Secondo i miei criteri, il broker doveva essere basato nella comunità europea o al massimo in Svizzera, doveva essere regolamentato ed essere un broker no deal in desk e quindi non market maker. Per quanto riguarda la leva, non utilizzando strategie estremamente rischiose come le griglie o sistemi martingale, che richiedono leve elevatissime per sopravvivere, le direttive imposte dall'ESMA andavano più che bene. Definiti quindi questi fattori chiave, i broker che utilizzano la Jforex sono due. Dukascopy, che è il broker che ha sviluppato le due piattaforme, e Tier1FX, a cui è stata fornita licenza. Entrambi i broker rispettano tutti i criteri unicati poco fa, ma hanno però degli elementi distintivi su cui vale la pena soffermarsi per approfondirli bene. E per questo ho deciso di dedicargli il prossimo video per poterli descrivere in modo preciso. Per finire, vi informo che Tarl Academy offre la possibilità di imparare a utilizzare questi strumenti attraverso delle consulenze private e personalizzate. Le ore di consulenza vengono quindi customizzate in base al vostro livello e alle vostre esigenze, e vi posso assicurare che dopo due o tre ore sarete già in grado di programmare autonomamente le vostre strategie. In ogni caso, se avete una strategia che utilizzate manualmente e volete automatizzarla, ma non ne avete il tempo o le competenze, potete contattarci e siamo più che disponibili a discuterne insieme. Trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Con questo video quindi ci fermiamo qua. Spero di avervi dato un'idea chiara di cosa sia la Jforex e delle sue qualità, e perché è un ottimo strumento per chi vuole approcciare il trading in maniera seria e sistematica. Ovviamente c'è ancora molto da dire, per cui se non volete perdervi i prossimi contenuti, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere una notifica non appena li pubblichiamo. Con questo siamo davvero alla fine, per cui vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo presto!